Giovanni ha raddoppiato, triplicato, quadruplicato, disfatto e scomposto questo capisaldo della pittura italiana del 400 che i manuali stentano ad ammettere nel loro recinto. L'estimate di San Francesco di Bartolomeo della Gatta raddoppiate e scomposte è solamente una delle opere delle mille vite di Shobot, l'esposizione di Giovanni Frangi, ospitata nell'ambito del progetto Galleria Aperta negli spazi della Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo. Artista milanese classe 1959, Frangi approda ad Arezzo e si riformula e rimodella per l'occasione con una mostra costruita ad hoc. Direi che Giovanni Frangi non rappresenta nessuna corrente, rappresenta nella realtà di oggi una persona che testardamente e con amore lavora indagando diverse modalità e che cambia pelle come cambia la vita mano a mano che si invecchia. Opere vecchie ed opere nuove messe assieme fino a perdere il senso di una cronologia lineare. Le immagini sono il centro del mio lavoro, poi quando incomincio a cercare di elaborare un'immagine in genere mi accorgo che la mia passione, il mio esercizio non finisce con un lavoro singolo, ma ha bisogno di trovare una conseguenza. Quindi è all'interno dell'immagine stessa che nasce questa necessità di rilaborare e di ripetere, per cercare di andare a fondo, per cercare di capire le cose. Per cui la mia abitudine a lavorare per cicli, e questa mostra in qualche modo lo dimostra, è essenziale nel mio modo di lavorare. Cioè un'opera da per sé non mi è sufficiente, ho bisogno di più spazio. La mostra resterà visitabile fino al prossimo 2 giugno.